Era 20, no, 30, era un marziano, lui arrivava, a me mi è rimasto impresso una cosa, al di fuori che camminasse con il merito, ma non scopriva che, non so, correvamo un po' riccardo, e poi la gara dopo era un misano, per il corto. Ecco, lui con i soliti rapporti saliva in pista dopo 45 minuti, erano secondo e due da record, con i rapporti che tiravano il 4 marzo. Poi cambiava il rapporto, eguagliava, passava l'acqua e noi eravamo già rovinati. E scende laggiù, non avevamo un muscerino tosse.